Grazie. La partita siamo entrati con entusiasmo, con la determinazione di vincere e purtroppo non siamo riusciti a fare i tre punti, ma penso che facendo prestazioni così anche il risultato, la vittoria arriva prima o poi. Sì, da parte nostra abbiamo creato tanto e potevamo chiudere la partita anche dal primo tempo perché abbiamo avuto tante occasioni e quella è una cosa che dobbiamo lavorarci su e riuscire a concretizzare quando arriviamo, chiudere la partita e fare gol. Con il lavoro penso che c'è sempre spazio per la crescita e per il miglioramento e io non voglio accontentarmi su solamente una prestazione, voglio sempre dare il massimo e migliorarmi partita dopo partita per essere migliore per la squadra e per me stesso. Bene, bene, è un mister che conosco già da anni e conosco il modo che lavora e quindi tutto non è facile però è un tipo di lavoro che conosco già quindi non ho fatto fatica a prendere il ritmo. È una bella partita contro la Regina, è una bella partita ma non solamente perché è il derby ma adesso con tutto quello che stiamo facendo, come ho detto prima, dobbiamo crescere e bisogna iniziare a fare i tre punti perché è l'unico modo che possiamo andare in avanti.